Si sono svolte nell'aula del Consiglio regionale della Lombardia le assise sul ruolo dei parlamenti regionali in Europa. L'iniziativa si è tenuta a conclusione della settimana europea dell'Assemblea Lombarda in preparazione degli appuntamenti del 2014. In primis le elezioni europee di maggio e i semestri di presidenza italiana dell'Unione Europea, da luglio a dicembre. Tra i presenti anche il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, che con i colleghi aveva già partecipato alla riunione della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.